siracusa campo scuola pippo di natale siamo pronti all'incontro di regli siraco nissa siraco in completo nero nissa verde nero quinta giornata di campionato incontro al vertice le squadre si preparano entrare il campo schierate per il saluto e poi si va da inizio l'incontro giornata soleggiata un po di vento calcio inizio spetta al giocatore del miss si va da inizio l'incontro 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 Prima tuscia della gara. Abbatte la Siraco con il numero 2. Abbiamo la bandiera. Un colo gius. 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 Questa volta palla per Missa. Un colo gius. La palla si racconta. La presa Gianmarco di pace. Iniziamo per la Nista che prova a trasformare tra i pali. Seguiamo. In linea portiamo! In linea portiamo! Di uno sessuale su una suona. Punto Nissa. 3-0 Nissa. Centrocampo e si ricomincia. Iniziamo. Battuta. Altornare. Un mostro. Iniziamo. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Ancora... No, no! niente non trasformata no montaggio fermo sul 3-0 ancora per una missa diamo una touche per la siraco vediamo cosa pescava l'arbitro no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ok, ok, ok! Grazie a tutti. 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 3 su 4. a tutti. 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 forza. bravo. a tutti. su. su. a tutti. 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 a tutti.